Un detective che poi, diciamolo l'americana, arriva in questura ed è a capo della questura. Per arrivare a fare il questore come io intenderò fare il questore, mi serviva avere un passato da investigatore, cercare di arginare la criminalità a diverse latitudini in tutto il paese per arrivare qui pronto ad avere una visione più completa, più ampia, più dedicata a questa provincia. Gli uomini delle forze dell'ordine sarebbe sempre auspicabile averne di più, perché io credo che ognuno di noi vorrebbe avere un poliziotto vicino casa per sentirsi più sicuro. Faremo in modo che quelle che ci sono lavorino al meglio, faremo in modo che in qualche modo le nostre forze si rinforzino anche con la cittadinanza, con le persone per bene, con quelle che sono il vero supporto alle istituzioni. Cercheremo di integrare il più possibile, abbiamo avuto assicurazioni in questo. Nel frattempo, con le forze che abbiamo in campo, faremo del nostro meglio. Noi abbiamo necessità che in qualche modo non sia solo la polizia ad avvicinarsi al cittadino come cerchiamo di fare e come facciamo da anni, ma che sia il cittadino, che sia la cittadinanza che si avvicini a noi. E questo legame tra di noi e la cittadinanza passa attraverso voi. Voi che raccontate quello che facciamo, voi che raccontate quello che succede in questa città. E un voi che va esteso anche a chi vi legge, che capisce da quale parte stare per dare il giusto supporto.